Ed ecco a voi il terzo filmato del primo capitolo della storia principale di Tekken 7. Guardate cosa succede, guardate il filmato. In questo video che io sto facendo c'è da vedere Eiyashi cosa fa. Arriva Nina a rovinargli la festa. E ora si affrontano Eiyashi e Nina. Adesso vogliono vedere chi è il più forte. Vabbè vi saluto, il filmato è finito. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.